Sono riusciti ad avere un Presidente del Consiglio che era stato studiato a tavolino, non è che Giorgia Meloni sia comparsa lì così, Giorgia Meloni è stata preparata dalle segreterie internazionali, è andata a Washington, ha fatto il solito giro delle sette chiese, bisogna andare a Gerusalemme, bisogna andare a Washington, bisogna fare quelle solite 3-4 cosette per essere garantiti, è andata all'Aspen Institute, ha avuto uno sdoganamento e si è creata un ruolo simile a quello di Zelensky in Ucraina, i paesi cuscinetto, i paesi non dotati di un'autonomia politica propria tendono a scegliere, secondo me gli americani in questo sono molto bravi, tendi a scegliere dei Presidenti del Consiglio molto improbabili, potenzialmente un po' fascisti, perché così se poi esagerano puoi dire che tu non c'entri, no? Cioè tu mandi avanti Zelensky a fare la guerra proxy, mandi avanti Meloni a fare il servizietto di essere sostanzialmente in questo momento un paese belligerante a tutti gli effetti, noi abbiamo centinaia di basi nucleari nel paese, abbiamo centinaia di testate nucleari nel paese, stanno facendo la sostituzione degli ordini nucleari, c'è una partita che si svolge sul nostro territorio, non da parte dei nostri politici, ma diciamo sotto l'ombrello, sotto la copertura immaginaria della democrazia italiana, dei suoi dibattiti, di queste cose, c'è una partita vera, l'Italia è centrale in questa vicenda, se torna una dinamica da guerra fredda, noi torniamo immediatamente ad essere il confine, loro hanno i Balcani, non è che sia nata ieri, c'è quest'operazione qui in qualche modo di accerchiamento, di strangolamento della Russia, di giocare a compattare il fronte occidentale per l'asse atlantica, non è che è nata a febbraio dell'anno scorso, è una cosa molto più articolata, molto più lunga, e che si vede succedere, ma io l'ho vista succedere, guarda, dal 2004, che negli Stati Uniti, a settembre, io sono sempre lì che insegno, a settembre c'è un periodo in cui vengono a fare il recruiting degli studenti per i lavori poi dell'estate dopo, in tutti i grandi campus americani vengono i datori di lavoro, che sono interessati a avere i ragazzi, facoltà di giurisprudenza importanti, i ragazzi d'estate lavorano, guadagnano anche molto bene, perché devono pagare delle tasse pazzesche all'università, quindi devono in qualche modo lavorare, e vengono in campus a fare questa ricerca. E sai quanti think tank che sono tutti sostanzialmente la CIA, con altre sigle ovviamente, non è che arriva la CIA e dice recluta la CIA, il Center for Constitutional Justice, il Center for Democracy and the Rule of Law, il Center for Human Rights and the Environment, quelli che ti pare, che sono tutti sostanzialmente think tank finanziati riccamente dal Dipartimento della Difesa e quindi sostanzialmente dalla CIA, avevano tutti dei programmi sull'Ucraina, tutti dei programmi sull'Ucraina, e dal 2003-2004 venivano i ragazzi e dicevano dove vado, quest'estate vado in Ucraina, sì e cosa voglio fare? Eh sai parliamo, andiamo lì a organizzare le campagne elettorali, le cose eccetera, e questo c'è per tutti i paesi, ma c'era stato sicuramente un aumento dell'intensità rispetto allo scenario ucraino, quindi insomma sono cose preparate da molto tempo.